E' una fortuna che si sia liberato un posto qui all'Edelvine. Il clima è piuttosto competitivo. E' il nostro tavolo. Levati. No, sto bene qui. Quella lampada si accende e si spegne. Sarà di nuovo il fantasma. Si dice che anni fa una ragazza si sia uccisa nel dormitorio. Neanch'io sono sicura di crederci. Secondo me invece c'è un modo per scoprirlo. Spiritus Orazio. Spiritus Orazio. Spiritus Orazio. Spiritus Orazio. Spiritus Orazio. Ho una tragica notizia da darvi. Una delle nostre studentesser è venuta a mancare stanotte. Dobbiamo dire a qualcuno cosa sta succedendo. Dire cosa? Che abbiamo evocato un fantasma che ci sta uccidendo? Se qualcosa ti spaventa, daglielo in testa. Se una persona muore in modo molto brutto, quell'energia si imprime nell'ambiente. E se sei sensibile, puoi coglierla. Tu dovresti essere qui. Fantasma di Edelbine, rivelati a noi. Fantasma di Edelbine, rivelati a noi. Spero di non dovermi pentire di aver accettato la sua richiesta di ammissione.